Bellissimo e buonissimo panno Swiffer cattura polvere, cattura la polvere benissimo, e si passa in modo facile e porta via tutti i peli, è davvero straordinario, e si risparmia sia tempo che fatica, una passata e diventa subito tutto pulito, credetemi. Chi già lo usa queste cose le sa, buona la qualità prezzo, in più è Prime, e ricordo sempre che chi è Prime non ha nessun costo alla consegna, vi lascio in descrizione video, il link affiliato Amazon.